Eccoci ben trovati, siamo finalmente arrivati agli ultimi due webinar di Paleo System Academy 2019 sono anche gli ultimi due webinar del percorso badge stampa 3D per i bisogni speciali questi due video sono finiti in coda a tutto il programma per un motivo molto semplice perché in qualche modo durante questa video lezione ripercorreremo, ripasseremo alcune nozioni e informazioni che abbiamo già incontrato e affrontato in altri webinar sulla robotica, sul coding o sulla stampa 3D per questo più avanti nel video troverete un montaggio di spezzoni estratti da altre video lezioni da altri webinar inframezzati da alcune informazioni testuali sotto forma di sottotitoli o diapositive quindi vi auguro buon lavoro e ci vedremo nuovamente in questo 2020 con tutta la nuova programmazione Paleos e se la mappa che voglio creare magari è una mappa un po' più frastagliata come in questo caso quindi per esempio voglio ricrearmi solamente il bordo della regione, della Toscana chiaramente è difficile farlo con le applicazioni che vi ho fatto vedere ora perché non vi permettono uno scontorno delle forme quindi in questo caso un modo più semplice per ottenere una mappa 3D è utilizzare delle immagini, quindi semplicemente dei JPEG o dei PNG in associazione con Tinkercad Tinkercad non vi permette di importare direttamente i file JPEG ma prima devono essere trasformati in file vettoriali, quindi in file SVG per trasformarli niente di complesso esistono online tantissimi convertitori che vi fanno scaricare il file JPEG e scaricare direttamente l'SVG quindi se volete ora andiamo a vedere velocemente su Tinkercad l'operazione da fare creiamo un nuovo progetto ok quindi su Tinkercad qui in alto trovate il tasto importa quindi andando a cliccare sul tasto importa vi permette di scegliere file come vedete non vi fa caricare direttamente il JPEG vi dice che Tinkercad supporta modelli in STL e OBJ che sono comunque formati 3D oppure SVG che è un formato 2D vettoriale quindi andiamo a scegliere un file in questo caso questo era il mio JPEG l'ho trasformato in vettoriale eccolo qua e lo vedete qui in anteprima quindi andando a cliccare su import sul mio piano di lavoro compare già pronta praticamente il file 3D, la mappa della Toscana cosa ci posso fare? come vi ho fatto vedere prima posso andare a variare le dimensioni qui se clicchiamo su questi cubetti bianchi agli angoli vedete abbiamo le dimensioni espresse sempre in millimetri quindi è circa 31x33 è una dimensione abbastanza grande per le stampanti che solitamente si trovano nelle scuole solitamente la dimensione media è intorno a 20x20 ne esistono anche di più grandi però per esperienza le ho viste quasi tutte intorno alle dimensioni 20x20 quindi se voglio ridurle semplicemente basta cliccare il tasto shift e andare a ridurla in maniera uniforme quindi quando arrivo più o meno alla dimensione credibile di 20x20 ecco qua io mi ero disegnato la mia area di lavoro a questa dimensione in modo da vedere bene e questa è una cosa che vi consiglio sempre di fare quindi portate la vostra area di lavoro a dimensione del piatto di stampa della vostra stampante in modo da capire se quello che state disegnando è troppo grande o troppo piccolo da realizzare quindi possiamo rimpicciolirlo ancora un pochino perfetto a questo punto l'unico problema questo file è già pronto per stampare quindi può essere già semplicemente esportato come vedete sotto compare anche la scritta scarica per la stampa 3D e può essere esportato in STL o OBJ qui l'unico problema problema fino a un certo punto insomma l'unica attenzione da fare è che come vedete l'isola d'Elba è staccata dal resto quindi in questo caso quando la vado a stampare e vado a staccare la mia stampa dal piano di stampa dal piano della macchina scusate avrò due oggetti separati quindi come si risolve? in due modi o importando una forma che funzioni da base per il tutto quindi possiamo andare a modificare il cubo centrale vi modifica solamente l'altezza solamente l'asse Z quindi vado a alzare leggermente la mia forma e solita cosa sotto vado a mettere un piano che la contenga e che mi faccia da base al tutto quindi a questo punto seleziono unisco in modo che diventi un oggetto unico dopodiché la riporto la riporto a misura ecco qua quindi questa può essere la prima strada quindi mi creo un'immagine a rilievo su una base oppure come vi ho fatto vedere prima le forme possono essere sia piene che vuote quindi utilizzando la funzione vuoto posso andare a crearmi una sorta di stencil che può essere utile magari per un per un disegno piuttosto ok eccolo qua che comunque come una ricostruzione 3D a vuoto quindi per sicurezza quando si va a scavare un oggetto come in questo caso conviene sempre immergere il vuoto in modo da essere sicuri che verrà forato interamente da parte a parte quindi se lo andiamo a raggruppare ecco qua come vedete è scomparso mi sono rimasti solamente i bordi solamente il contorno chiaramente in base al file che si utilizza si possono creare in base scusatemi all'immagine di partenza che si utilizza si possono creare file più o meno complessi quindi qui sono partito da un'immagine unica in alternativa se parto eccolo qua come in questo caso da un'immagine che al suo interno ha una separazione andiamo a fare la stessa cosa in porta scegliamo questa volta l'altro file e questa era l'immagine di partenza come vedete la trasformazione in svg mi farà importare non solo i contorni esterni ma anche quelli interni quindi rimpiccioliamo leggermente solita cosa posso andare o a unire pieno con pieno quindi andare a ingrandire ingrandire la mia mappa ok e creare semplicemente il rilievo ok oppure se anche in questo caso voglio costruirmi una sorta di puzzle basterà andare a immergere la mia forma come abbiamo fatto prima quindi utilizzandola come vuoto come forma di sottrazione e una volta unito quello che ottengo eccolo qua se vi avvicino lo vedete bene tutte le parti del mio modello sono separate le une dalle altre in questo modo quando vado a stampare non avrò più un file unico o meglio sarà stampato in un'unica parte però poi una volta rimosso dal piano di stampa posso andare a separare tutte le varie parti e utilizzarle come un puzzle ok quindi come vedete molto molto velocemente con veramente un paio di operazioni rapidissime capite che potete utilizzare qualsiasi tipo di disegno per creare mappe personalizzate quindi quello che non reperite direttamente online lo potete fare in pochi minuti attraverso immagini jpeg che magari già avete o che avete disegnato per cose specifiche ok ah naturalmente se volete con tinkercad è possibile aggiungere aggiungere scritte quindi potete aggiungere la scritta semplicemente andando a inserire una forma vediamo se mi riapre il software eccolo qua avete direttamente tra le forme di base la funzione testo quindi dove andando a scrivere come vedete appare direttamente la scritta che poi può essere sovrapposta e anche in questo caso unita per essere stampata tutta insieme oppure in caso di bisogni un po' più puntuali come per esempio una scritta in braille potete utilizzare un traduttore e poi da qui andare a fare un copia e incolla sempre sullo strumento testo e ricreare il 3D ok mi fermo un minuto allora ok il mio socio ubado sulla stampa 3D o comunque vi invito ad andare a rivedere nella playlist soprattutto quello stampa 3D e geografia lì ubado com'è che è possibile importare dei file a due dimensioni come i png all'interno di tinkercad in modo da poterli estrudere vedete mettere i disegni su una basetta di medaglie e poi li abbiamo stampati in 3D e li abbiamo usati come personaggi o come elementi di contorno entriamo nella parte secondo me un po' più innovativa dato che fino adesso abbiamo parlato di stampa 3D viene da sé che la stampa 3D per l'ipovisione anche solo per tutti i percorsi tattili che si trovano nei musei come dire è sicuramente una tecnologia interessante c'è da lavorare sui modelli sulla grandezza su come di sulle sensazioni superficiali della superficie ok e fino a lì diciamo è abbastanza chiaro diventa interessante quando iniziamo a inserire l'interazione per interazione che cosa intendo in qualche modo aumentare proprio si può dire che un oggetto inanimato in qualche modo viene aumentato da un elemento digitale o multimediale diventa proprio un oggetto aumentato vi dico due tecniche secondo me molto comode anche perché sono abbastanza gestibili anche senza essere degli esperti programmatori o degli esperti di elettronica e soprattutto costano poco ed è una cosa su cui abbiamo iniziato a lavorare anche noi intanto la prima cosa che vi mostro è la tecnologia la cosiddetta NFC Near File Communication alcuni telefoni di nuova generazione di alcune marche io ho un Sony la Huawei uguale ma più o meno insomma c'è su molte marche iniziano ad avere il diciamo il ricevitore NFC che ha un protocollo di comunicazione senza fili io ho scaricato questa applicazione qui per Android ma immagino che ci sia anche per iOS non ho verificato perché usiamo sempre Android di solito si chiama NFC Tools che cosa fa questa applicazione intanto vi pongo questa domanda mostrando ve la aprendo la webcam avete mai sentito parlare di tag NFC sono questi i tag NFC ci sono di varia forma è un oggettino che costa 70 centesimi mi sembra non ricordo insomma si comprano a sacchetti insomma ed è un piccolo adesivo che può essere che comunicando attraverso appunto questa tecnologia NFC con il telefono può attivare una serie di contenuti multimediali nel telefono essendo un adesivo ed essendo piccolo ed essendo molto economico io posso attaccarne più di uno su un oggetto magari certo di una certa dimensione magari stampato in 3D e abbinare a ognuno di questi tag delle informazioni multimediali ok ve lo mostro in diretta io qui c'è il mio telefono tutte le applicazioni sono chiuse non ci sono applicazioni l'unica cosa che c'è sono collegato alla rete ok io ho memorizzato dentro questo tag ho memorizzato una semplice informazione multimediale che è che è la seguente quando il microfono viene avvicinato aprimi il sito di paleos ok ma potrebbe essere anche potrebbe anche essere un'altra informazione multimediale per esempio attivami un video richiamami un file audio eccetera ve lo mostro il mio telefono ha il sensore nfc sul retro quindi guardate sono collegato al wifi sì io adesso avvicino il tag dietro e lui mi apre il browser e mi va nel sito paleos.itro ci mette un po' perché da mobile il sito è un po' un po' pesante eccolo lì ok quindi questo significa che ad esempio uno in una in un museo viene da sé ma anche in una scuola per esempio noi ci capita mi è capitato spesso durante le formazioni di sentire dei progetti che volevano che desideravano realizzare diciamo dei piccoli musei all'interno della scuola con dei reperti stampati in 3D ovviamente e questo potrebbe essere una cosa interessante aggiungere dei contenuti aumentare quei come di l'esperienza aggiungendo dei contenuti multimediali c'è da fare grosse cose di programmazione grosse cose di elettronica no basta avere questi che costano 60-70 centesimi l'uno avere dei telefoni o dei tablet che sono compatibili con la tecnologia NFC e nell'applicazione semplicemente inseriamo il link al contenuto multimediale che vogliamo questo diventa molto interessante per dare vita agli oggetti tattili questa per esempio come dire quindi uno potrebbe avere per esempio per uno studente un qualcosa che ha a che fare con l'anatomia con le espressioni facciali queste cose qui e uno magari toccando magari sente che c'è una parte interessante sente che lì col tatto c'è un'informazione multimediale o perché sente l'adesivo o perché c'è un indicatore tattile di qualcosa può avvicinare il device il dispositivo il dispositivo il telefono il tablet quello che è e ottenere un contenuto multimediale questo ricordatevelo tag nfc e l'applicazione ve la mostro nuovamente nelle slide nfc tools ok io uso android ma immagino che ci sia anche per per chi di voi usa il ios o i dispositivi apple ora non ho avuto dico la verità non ho avuto modo di verificare l'altra trucco o tecnologia ancora più interessante per certi versi per aggiungere interazione ad oggetti inanimati è la seguente i sensori capacitivi ora molti di voi se non tutti probabilmente conoscono il conoscono il mechi mechi che è qui il cui circuito è rappresentato qui a destra molti meno probabilmente sapranno che per arduino esistono quelli che si chiamano gli shield gli shield che cosa sono sono questi scudi qui sono delle schedine che si attaccano alla scheda principale arduino adesso ve la faccio vedere anche in webcam e permettono di aggiungere delle funzionalità ok visto così uno potrebbe pensare che il mechi mechi e questo siano la stessa cosa ok vedete anche qui è collegato alla frutta al metallo alla graffite e il mechi mechi per chi ha visto i video eccetera sa benissimo che insomma hanno fatto vedere un sacco di esempi della frutta il famoso banana piano eccetera eccetera c'è però una differenza fondamentale guardate questo disegno in parte questa è una cosa che ho messo un po' apposta nel primo webinar sul coding per la secondaria il primo webinar che abbiamo fatto a metà gennaio perché volevo aspettare diciamo quest'occasione per introdurre questo questa distinzione chi di voi usa il mechi mechi o l'ha visto sa che l'utente quando tocca la mela la banana la plastilina quello che volete deve essere collegato di solito con l'altra mano con comunque diciamo un lembo delle mani funzionano particolarmente bene infatti nel video si vede sempre che mettono un braccialetto insomma però qualcosa che sia a contatto con la propria pelle deve essere collegato alla terra il ground alla terra che c'è sulla scheda questo collegamento questo anello chiude il circuito e fa fare qualcosa ve lo mostro anche in webcam allora ecco il mechi ecco il mechi mechi eccolo qui vedete che oltre ai punti dove si attaccano i morsetti i morsetti si attaccano qui 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 a seconda del comando che uno vuol dare ci sono le le sei porte qua sotto dove c'è scritto ground per l'appunto che è la terra in realtà quindi noi dobbiamo sempre essere collegati col nostro corpo alla terra per chiudere il circuito questo può essere utile quando facciamo un'applicazione magari in scratch un gioco un'attività lì perché non è un grosso problema essere collegati con un altro cavo al ground diventa più complesso da gestire se vogliamo invece avere un oggetto totalmente indipendente come appunto come vi dicevo un oggetto al museo o un oggetto in un museo dentro la scuola eccetera diventa difficile dire a una persona magari ipovedente non vedente che per azionare quella cosa si deve anche collegare col proprio corpo a un altro a un altro diciamo a un altro cavo non è semplicissimo ok quindi se vi ricordate chi di voi ha visto il primo webinar sul coding saprà che il makey makey si basa sul circuito che si chiama resistori di pull up mentre io adesso vi parlavo di sensori capacitivi che è un altro concetto che è più simile a quello che c'è nei touch dei tablet o dei telefoni come otteniamo quell'effetto su arduino montandoci questo shield che si chiama adafruit capacitive shield è un pezzo extra che uno può acquistare e inserire sulla scheda come vedete anche qui attacchiamo i morsetti la differenza dal makey makey è che qui di morsetti mettiamo quello che fa da contatto come di che trasforma un qualcosa in un sensore ma non abbiamo necessità di avere l'altro contatto in collegamento con la nostra pelle per fare il ground non è necessario quindi basta solo un contatto io se faccio così otterrò la reazione che voglio e ora ve lo mostro in diretta mostrandovi il monitoraggio della porta arduino così vedete che cosa sta ricevendo io qui come vedete al di là di tenere sospesa qui la scheda non ho altri cavi collegati alle mie mani o alla mia pelle sto semplicemente toccando questo e comunque lo vedete anche qui dal led vedete lui sente che che sto toccando ok ora ve lo mostro anche in vedendo proprio dal punto di vista software cosa sta ricevendo apro l'applicazione di condivido con voi l'applicazione di arduino eccola qua ok ora qualcuno di voi si preoccuperà di vedere tutto questo codice in realtà la cosa è molto più semplice di quanto sembra perché questo codice ce lo troviamo già fatto negli esempi ci sono gli esempi per lo shield adafruit mpr 121 che è quello che vi ho mostrato ed eccolo qui c'è già l'esempio già bello è fatto test ok quindi uno si ritrova già il codice è fatto ovviamente se vuole fare delle modifiche se lo deve studiare un po' però comunque è già fatto per vedere cosa riceve veramente la scheda devo aprire quello che si chiama il monitor seriale che è questo ora voi non lo vedete perché lo devo condividere la finestra da qui un attimo arrivo eccola qua adesso la vedete anche voi la finestra seriale e vedete io sto toccando vedete touch release touch release touch release e quindi mi sta lui riesce a sentire il mio contatto senza che io abbia bisogno di quell'altro filo ground che va alla terra al polo negativo che invece è presente in makey makey ora capite che questo rende interessante aggiungere rende molto interessante e rende soprattutto possibile aggiungere delle parti sensibili touch a un oggetto magari di una certa dimensione come questo uno potrebbe semplicemente noi abbiamo provato abbiamo fatto degli esperimenti con Ubaldo avevamo semplicemente aperto dei forellini e ci avevamo fatto passare tipo una cucitura una cucitura un po' di filo di rame di filo di stagno di quello che volete insomma proprio come se fosse una una cucitura del filo esce e rientra subito e quella diventa sensibile quindi uno se tocca quello tocca quel pezzetto di metallo è come se stesse toccando questo e mi attiva qualcosa ok questo è molto più interessante col makey makey non lo potete fare con il capacitive touch shield per arduino lo potete fare considerate che se mettete insieme il costo di un arduino e del capacitive shield siete più o meno al prezzo del makey makey quindi è qualcosa da tenere in considera in forte considerazione perché il makey makey è molto interessante ed è molto usato nelle applicazioni come dire di inclusione come io stesso ne ho parlato spesso ed è stato anzi l'oggetto da cui anni fa ho iniziato a conoscere tutto il mondo del coding e di arduino quindi è un oggetto a cui sono affezionato però è un oggetto che è comunque molto vincolato a interagire in qualche modo con applicazioni dentro il computer scratch e dintorni questo è più qualcosa che possiamo inserire in un oggetto autonomo un oggetto terzo autonomo come vi ho fatto vedere per esempio quella stazione diciamo quella postazione multimediale nel museo di preistoria ok ora probabilmente faremo una variante dove all'interno del reperto inseriremo delle piccole venature fatte con un filo di metallo come una cucitura entra esce e rientra subito che uno toccando l'oggetto ogni tanto ci saranno queste queste cuciture entrando in contatto con la pelle faranno scattare quindi in qualche modo faranno scattare il contenuto multimediale quindi è come se il pulsante il sensore fosse intrinseco incluso all'interno dell'oggetto ok quindi questa queste due tecnologie NFC e sensori capacitivi possono secondo me veramente rendere facile o comunque abbastanza facile trasformare oggetti inanimati magari progettati appunto per studenti ragazzi ipovedenti non vedenti eccetera anche in oggetti aumentati interattivi ok senza dover essere degli esperti di elettronica e di informatica grazie Grazie a tutti